Ciao a tutti! Oggi con telecamera sbarazzina e con grande possibilità di movimento devo dire perché sì è arrivato uno di quei momenti in cui devo prepararmi a una partenza. Come ben sapete è imminente il Salone del Libro di Torino. Nel momento in cui sto registrando mancano un paio di giorni e sono nella fase di preparazione valigia e preparazione interiore perché chi lavora nell'editoria sa bene che il Salone del Libro di Torino è una montagna russa, un tour de force. Non esiste nient'altro, sei completamente sequestrato all'interno dell'ingotto immerso tra i libri, che è una cosa molto bella tra l'altro, e veramente sei focalizzato solo su quello, non esiste nulla per tutto il giorno e per tutti i giorni. Quindi diciamo che ci vuole tanta preparazione zen di partenza. Poi quando sei l'ave di tutti i libri insomma ti parte l'adrenalina, ti parte la gioia di vivere, però diciamo che i giorni prima della partenza sono abbastanza difficili da gestire. Chi lavora nell'editoria lo saprà. Il fatto sta che io sono carico, entusiasta, è una trasferta che mi occuperà per una settimana abbondante, quando uscirà questo video probabilmente sarò già partito. E come sempre, che libri metterò in valigia? Un piccolo format che devo dire mi sembra vi piaccia e che aiuta anche me, perché io ho tutto il mio, ho tutto il mio iter per scegliere che libri portare in valigia. Innanzitutto, durante le fiere, soprattutto come quella di Torino, che è completamente devastante, non c'è tempo per leggere, ma prenderò sicuramente un treno e quindi in treno si legge. So già che non leggerò quasi mai le sere delle varie giornate, però a volte mi capita di prima di coricarmi di leggermi una decina di pagine. Quindi porterò massimo due libri molto brevi, che devono stare sulle 100-150 pagine, non di più. Non ne porto uno solo perché comunque due devono esserci, perché per la mia, per come sono fatto, devo avere una vaga idea di scelta. Due libri brevi, potenzialmente interessanti, ma che posso leggere senza troppi giri mentali, perché devo avere mente fresca, mente proprio leggera, anche perché il treno che prenderò lo prenderò la mattina presto, quindi c'è pure il sonno che mi devasta. Due libri, appunto, anche abbastanza smilzi, anche banalmente per quanto devo portare e, come sempre, ci dirigiamo verso la piccola montagnetta di libri che ho intenzione di leggere e che sono ancora in attesa di lettura. E vediamo che cosa c'è. Con la consapevolezza che devo anche un po' riordinare, abbiamo due montagnette di libri. Questi sono i libri, più un DVD, della biblioteca. Non porto libri della biblioteca perché, dovendo uscire di casa, non mi piace avere dei libri non miei in borsa. Temo che possano rovinarsi, quindi eviterò. Fatto sta che ho preso in biblioteca. Vabbè, questo è lettura ed è un'esperienza personale di Kenzaburoe, premio Nobel, libro molto bello a cui sto dedicando un po' più di tempo. Questo è un libro molto particolare, tra l'altro in un cofanetto, in un cofanetto piuttosto curioso, è Cronaca della Luna sul Monte di Nakajima Atsushi, autore giapponese che pare essere molto affine alle atmosfere di Borges. Non ho mai letto nulla di suo, sono parecchio curioso. Poi ho due libri un po' più smooth di Satoshi Yasigawa, autore ormai best seller, che ha fatto questa collana, i miei giorni alla libreria Morisaki. So già che probabilmente si andrà in atmosfere un po' più comfort, più cozy, non saranno dei capolavori, ma per quando voglio staccare il cervello voglio dargli una chance. E poi il nuovo di Kawamura, Un canto divino. Questi sono i libri della biblioteca, ma appunto non li porto con me in valigia. Questi invece sono i libri acquistati o che mi hanno mandato, che quindi possono essere portati con me. Vedete che c'è anche Stranei di Yamada Taichi. Ecco, l'avevo portato, l'avevo scelto per la fiera di Bologna e non l'ho letto. Non ho avuto proprio la testa, quindi è ritornato qua. Qui abbiamo un po' di cose. Allora, questa è una raccolta di racconti che si chiama Felis Incubi. Sono dei racconti horror con protagonisti dei gatti, come la Manilina che è qui. Ciao Manila! Tu sei una gatta mannara. E questi racconti li leggo la sera ad alta voce con Manila, quindi resta qua. Lo Stregone è un libro... Sapete che lo Stregone ci può stare? Lo Stregone è un libro della collana Giallo Junior. Un horror, thriller horror. Questa collana mi piace un botto perché era, diciamo, una competitor di piccoli brividi, ma allo stesso tempo, diciamo, che aveva delle chicche niente male e molto spesso ci trovavi anche dei libri per adulti in questa collana. È breve, è smilzo, secondo me, di intrattenimento. C'è pure un gatto mannaro, ma sì, dai, può essere un candidato. Poi c'è una raccolta di racconti, Terminal Boredom, di Izumi Suzuki, autrice giapponese, ma in realtà modella, attrice, anche un po' controversa, che scrive questi racconti di fantascienza femminista negli anni 70. Voglio leggerlo al più presto, ma non lo porterò perché è in inglese, banalmente. E so che io leggo tranquillamente in inglese, ma se sono in fiera devo fare lo scarto di lettura in una lingua non mia, anche se sono confident, non è il caso. Mentre è già più interessante il libro di Otessa Moshfegg, Meglu, che dovrebbe riprendere le atmosfere, anche se il suo esordio anticipa un po' le atmosfere del mio anno di riposo oblio, con questo uomo su una barca annebbiato dall'alcol. Insomma, è piuttosto smilzo, secondo me si leggerà abbastanza in fretta, l'autrice mi piace, può essere un valido candidato. Isabella Santacroce, Magnificata Mur, non vedo l'ora di leggerlo, ma come vedete è un po' un malloppone e il fatto di portarmi un malloppone, che poi vabbè ha una durata standard, però rischio di leggerlo troppo a spizzichi e bocconi e questo potrebbe comportare un calo dell'attenzione. Quindi da leggere quando sono tornato. Goth di Otsuichi, stessa cosa, questo è un horror psicologico con due adolescenti emo fissati con la morte, Estranei di Taichi da leggere, non adesso però, così come Hollywood Babilonia di Enger, questo manga, quindi lo finirei subito, quindi no, Moravagine troppo tosto per un periodo di fiera. Qui abbiamo, eh questi due sono interessanti, questo è L'uomo che voleva essere colpevole, un romanzo di Perborea su un po' kafkiano, su questo uomo che continua a costituirsi per un delitto che forse non ha commesso, questo invece è L'uomo di Londra di Simenon. Uno Simenon ci può stare, sapete? Sapete che lui è un candidato, è un candidato, ma sì, mettiamolo qua. Poi, questo è un saggio sulle sottoculture di Milano, direi di no. Questo è il libro di Sara Boero, come ben ricorda, ma lo voglio leggere in casa, quindi no. Questo è un manga di Junji Ito, lo finirei subito, ho bisogno di cose che comunque mi si fanno compagnia, cioè mi tengono compagnia perché ok scegliere libri brevi, ma un manga me lo leggo in mezz'ora, quindi no. E poi è grosso, anche solo da portare in borsa. Quindi, alla fine è stato più semplice del previsto. Abbiamo tre libri. Allora, io Tessa Moshfeg la salvo perché voglio proprio leggerlo, questo libro, e secondo me potrebbe essere anche il libro che scelgo di leggere proprio sul treno. Sì, questo è fatto, questo me lo porto. Lo stregone o l'uomo di Londra? Allora, lo stregone, secondo me, sapete che può essere una bella lettura da fare in casa prima di andare a letto. L'uomo di Londra, invece, potrebbe essere tranquillamente un romanzo leggero, perché Simenon per me è comunque intrattenimento che quando diventa esistenzialista, romanzo leggero da leggere nel caso in cui abbia finito un altro libro. Ma sì, dai, questo me lo tengo in casa e Simenon viene con me a Torino. Scelti, stato più semplice del previsto. Allora, L'uomo di Londra e MacGlue. Come sempre, adesso, anche se manca un paio di giorni prima della partenza, li metto in valigia in modo che non li veda e non li inizi prima. È sempre il mio rituale, questo. Quindi, mi porterò loro, riuscirò a leggerli, chi lo sa. Almeno uno dei due sì, dai, secondo me sì. Ebbene, siamo pronti! Più veloce del previsto, più semplice del previsto, sono loro i candidati. Li metto in valigia e incrociamo le dita. Fatemi sapere se passerete al salone del libro. Come ogni anno io lavorerò allo stand di Pocampo. Tanto diciamo che ci vedrete da lontano perché c'è pure un treno a grandezza naturale. Chi verrà saprà. Detto ciò, scatenatevi qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se anche voi avete dei rituali da seguire quando scegliete che libri portare in valigia quando fate un viaggio di lavoro, un viaggio di piacere. Per me sì e, come sapete, sono un po' allergico all'ebook, all'ebook reader. Non ce la faccio. Ho bisogno della carta. Quindi mi porto loro due. Fatemi sapere se avete anche letto questi due libri o uno dei due, che ne pensate. Insomma, scatenatevi nei commenti, io intanto sarò già partito. E detto ciò, vi mando un bacione e vi aspetto a un prossimo video. Ciao ciao!